Continua il tour fotografico in Val di Remma, oggi vediamo com'è anche questa valle, ci dovrebbe essere un po' più neve di qua, vediamo come va. Ora il tentativo è provare a fare, vabbè non si vedrà niente dalla GoPro, quella foto. Montagna con luna. Vediamo come è venuto, vi faccio vedere come è venuta. Stamattina qua fa molto più freddo di ieri anche perché siamo ancora in ombra, quindi abbastanza normale direi, però muovendosi ci si scaldano, diciamo non è esageratissimo il freddo, almeno quello. Sicuramente il posto è molto bello, vediamo se riusciamo a trovare magari qualche animale, anche se probabilmente è più difficile rispetto a ieri, ma vediamo. A presto, a presto, a presto. E questo è un forno comunitario di villaggio, che veniva utilizzato da tutto il villaggio in comune, in cui all'inizio dell'inverno, a turno, si mettevano e facevano il pane dentro quella porticina, fondamentalmente. Questo è un forno che può tenere un'infarnata da 50 pani contemporaneamente, quindi è abbastanza grande. Ma ce ne sono anche di più grandi in altri villaggi e è tutto forno. È molto bello perché promette al villaggio di radunarsi in comune. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.